No! 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 Oh, cazzo! Ah, sono tornato a Dorsetto. Spatola? Ok. Ok, siamo nel salottino. Rimuovi i cunei? Ah, ok, molivo... Ah, con il cucchiaio. Ma a te... Ma a te, pensa a te. Oh, canocchiaio. Non ho tutto che ho bisogno. Ah. Cosa è questo? E ma scusate Ah ok Grande grandissimo Ok adesso si si ragiona Dobbiamo andare Dove sta la cantina Ok O cantina O possiamo andare anche Il piano rialzato E il ballatoio Ok Ok It's blocked No 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 Li mortacci Perché io potevo anche non tornare qua Grazie Grazie Ci mette una vita per ricaricare però Picozza Questa mi piace Questa mi piace Questa mi piace Questa mi piace Ho detto io che non ci avrebbe fatto accedere facilmente Almeno su questo ho avuto ragione Vabbè andiamo di là Credo Ah ok E quindi Cioè questa è la porta per l'aldilà Tutto questo Non era così Ok E ci sta questo Allora ci sta questo Che possiamo sbloccare E stiamo andando bene Dai Esatto C'era questa stanza che era chiusa Giusto Come on Grace I'm too tired for games I'll even let you play with my jackknife Oh Good evening You haven't seen a little girl by any chance have you? I don't think so You would have known if you did The only kid crazy enough to be in this place She's not in her room then? That would be a first Always running around causing trouble She's very hard to pin down that one You wanna sit up? I'm good Thank you Well I should be going then Unless there's anything Nothing you need from me I just want to find my uncle before anything happens to him Oh Don't worry miss He'll show up He is much too lily-livered to kill himself Why would he? He was simpatico It's his greatest ambition Didn't you know? Take care now Hmm There's something missing Una chiave apposta c'è Dunque Allora noi adesso siamo arrivati qua Ma in realtà Non possiamo fare nulla Credo So this is Grace's room Cute Che cavolo E qua abbiamo già visto All'inizio Questo è proprio L'inizio Della demo Ah lo possiamo prendere? Ah abbiamo preso Un posto La mappa Ok E niente Dobbiamo scendere giù Dove andare alla cantina Non abbiamo null'altro da fare Cantina Abbiamo scendere giù Scendere giù Se ci fa scendere Non è detto Ci faccia scendere Se ci riusciamo Abbiamo scendere giù Ok Come sempre A tutto Ah Eh ho capito C'erano i simboli Qua però This must be the great Cassandra Beauregard's room I'm not sure what I expected Maybe something more extravagant a 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 di qua porca si 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 però non c'ho la mappa di qua esatto perché non me lo fa dire che 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 hai eh non vuole che si è più buggato oh vediamo qualcosa che non ho fatto sicuramente non è possibile eccolo vedi eccolo qui stiamo procedendo dai attenzione no ci manca qualcosa eh non poteva essere come la stacco la corrente scusate così sì anche per i mostri funziona così fidati ok adesso posso posso riparare sì ma secondo me mi farà arrivare l'indenne io non penso proprio io penso proprio proprio di no la posso dirti anche la corrente scusate un attimo domanda stupida perché no ma perché no vabbè perché stanno come facevo a farmi cagare sotto so struppala ok ma il piccone da quando è uscito eh tutto quello che viene qui appassi pica non 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 allora non ma Vabbè abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare Per cui Mi sembra dire Oh abbiamo trovato lo zio Oh What the hell is that? Not about that What? There was a dead body in here Did I just imagine that? Okay Ministra Ci dovrebbe essere il locale Caldaia Allora Vai Cioè anche così ho difficoltà Vabbè ho detto tutto Questo dovrebbe essere qua Ok Poi sopra Sopra dovrebbe essere No No Sì 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 Questo deve andare qua Ci sta avvicinando No Davvero No E questo è sbagliato In questo pezzo non c'entra nulla Ok Yes E poi c'è un numero E poi c'è un numero però Qua Se mi dai un piccolo indizio Io me lo prendo E quindi Qua stiamo parlando di 9 5 E 7 9 Anzi Nell'ordine della grandezza 9 7 5 6 6 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 11 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 La mappa dovrebbe aiutarmi Però No Comunque era due strani pini Quindi non me lo dice più Che cazzo mi serve Questa cosa se non mi dici La cantina comunque Ma già sto nella cantina E quindi sto qua La becca cosa qua Qua Dai so Ok so cosa Ok 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 sta così semplice vogliamo ammastellare oh porca puttana no non ce la faccio spezzate il mattellone eh qua non ce ne abbiamo più niente però c'abbiamo dei pezzi qua no e qui dobbiamo tornare indietro non è che non mi serve non ce le hai perché dice non mi serve dice non c'è non c'è la mappa che l'ha tradotto dobbiamo recuperare dei pezzi e uccide le mostre oh no non lo metto giù merda e va panculo però dai però no no un segreto però vai giù ridicoli combattimenti ridicoli pompa che non serve a nulla ma dobbiamo riparare i pezzi forza donna forza di qua masé non 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 Grazie Guarda due picconate quello stronzo Due validate Due palate Due palate Irediamo col pastardo Ma fa l'altro non vedo cose A vendere tutto questo Ma solo mostri Quindi va bene No Ma perché scusa Cosa da vendere? Io non ne vedo Non ne vedo Non ne vedo Aiaiaiai Passiamo attraverso Eh vabbè It's blocked Non ne vedo Non ne vedo Non ne vedo Non ne vedo No ne vedo No ne vedo Eccolo qua Eccolo qua Non ne vedo Non ne vedo Non ne vedo Un giro Un giro della madonna Stiamo facendo Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Ormai non vedo Ormai non so più dove andare Eccolo qua Eccolo qua Si scende Si scende Adesso Adesso Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Occhio che abbiamo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Cioè Cioè questa è la ribellione del gioco Ma che cazzo era Eccolo qua A parte che Tengo solo un pompa De merda E vi dico Che è una cosa Schifosa Cioè Non si riesce Ma penso Che dobbiamo scappare Però non riesce A correre Sull'acqua Quindi non lo so Sono molto malissimo Tra l'altro Ecco Vedi No No Mamma mia E' male Però Mamma mia E' però così Non è giusto Il tuo cazzo Devo andare Non lo so Mamma mia Che mazzate Che ho preso Ho preso Delle mazzate Allucinanti Eh Avrei visto Che non li potessimo Abbattere Comunque Vabbè Però E' stato Un momento Un momento Terribile Anche mai più Giocalo di notte Stata notte Mi sono cagato Tutto Terribilissimo Andiamo avanti Medaglione Un altro medaglione Ok Vabbè Ormai Ho fatto la collezione Eh Ah ok Quindi I tre medaglioni Li abbiamo trovati Ragazzi Ok ci siamo Una Una buona notizia Una buona notizia Beh per poco Comunque Per poco Andiamo a mettere Sti medaglioni Si spera Dove cacchio Sta l'ingresso Della cappella Qua Cristina Ok Ah ok Quindi Così Sopra Ok Questa nuova funzione Vediamo se funziona Che si vede molto piccolo Ok Perfetto Vedete che La mano va sopra L'agnello sinistra E l'aquila a destra Ok Va bene Ci sta Non è proprio dritto Ok